Oggi Unione Sovietica entra ufficialmente mondo Vox. Questa non è soltanto un'esibizione, qui siamo noi contro di loro. Ivan Drago combatterà contro chiunque sia qualificato farlo. Drago è il fuggile più modernamente allenato di tutti i tempi. Qualunque cosa tocca, lui la distrugge. No! Avrebbe potuto far interrompere l'incontro. Poteva risparmiare la vita al suo migliore amico. Non ti dimenticherò, Apollo. Ora c'è una cosa che non può fare. Sottrarsi alla sfida. È stata già fissata la data dell'incontro? Il 25 dicembre. Dove? In Russia. Ma siete mati? Signora Balboa, quando partirà per la Russia? Io non andrò in Russia, non so di che cosa state parlando. Signora Balboa! Ha combattuto contro un professionista e ci ha scappato il morto. Per battermi, mi deve ammazzare. Perché non cambi il tuo modo di pensare? Perché sono un pugile. Non puoi vincere! Non puoi vincere! Io ti spiezzo in due Rocky IV Grazie a tutti